Buongiorno, sono Simone Tosi, presidente del corso di laurea in sociologia del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca e in questo video presento il corso di laurea. Spero che le slide parlino abbastanza chiaro, ma provo a commentarle rapidamente. Questa presentazione si articola in tre parti. Nella prima vengono fornite informazioni sulle modalità attraverso cui è possibile iscriversi al corso di sociologia. Nella seconda definirò in modo molto rapido la figura del sociologo indicando i principali sbocchi occupazionali e nella terza infine descriverò la struttura del corso, lo sviluppo degli insegnamenti nei tre anni e le ulteriori attività che sono previste dal piano didattico. Il corso di laurea in sociologia è un corso a numero programmato. Questo significa che per ciascun anno è previsto un numero massimo di immatricolazioni che nel nostro caso è pari a 385 studenti. Iscriversi al corso di laurea in sociologia implica sostanzialmente due passaggi. Il primo consiste nel sostenere il test, il secondo è quello dell'immatricolazione vera e propria presso l'Università di Milano Bicocca. Il test previsto dal nostro corso di laurea è il TOLC SU che viene erogato dal consorzio CISIA. È un test che può essere sostenuto in diverse date e in diverse sedi locali. Al link in fondo a questa diapositiva trovate le date e le sedi disponibili per sostenere questo test. Il TOLC SU di CISIA è un test organizzato in quattro sezioni. La prima delle quattro sezioni verte sulla capacità di comprensione del testo e sulla conoscenza della lingua italiana. È una sezione che prevede 30 quesiti che devono essere svolti in un tempo massimo di 60 minuti. La seconda sezione è invece orientata ad accertare il grado di conoscenze e competenze che gli studenti hanno acquisito nei loro studi precedenti. In questo caso sono previsti 10 quesiti che vanno svolti in 20 minuti. La terza parte si concentra soprattutto sull'accertamento delle capacità di risolvere quesiti di ragionamento di tipo logico. Anche in questo caso ci sono 10 quesiti che vanno svolti in 20 minuti. L'ultima parte è quella prevista per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Questa parte prevede 30 quesiti che vanno svolti in 15 minuti. Sulla base del punteggio ottenuto nelle prime tre sezioni del test sarà redatta una graduatoria di merito che è quella che serve effettivamente all'immatricolazione. Va la pena dire che la quarta parte del test, quella relativa all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, non contribuisce al punteggio finale. È una parte che abbiamo però deciso di lasciare perché ci pare che costituisca uno strumento importante grazie al quale gli studenti hanno la possibilità di valutare la propria preparazione su una competenza assolutamente imprescindibile per questo corso di studi. Una volta ottenuto a questo punto il punteggio nel test, gli studenti possono finalmente procedere ad immatricolarsi al corso di laurea in sociologia nei modi e nei tempi che saranno pubblicati sul sito di Ateneo. Non esiste un punteggio soglia sotto cui è impedita l'immatricolazione. Chi però conseguirà un punteggio complessivo inferiore ai 15 punti otterrà quello che abbiamo chiamato un obbligo formativo aggiuntivo. Gli studenti che avranno quindi avuto questo obbligo formativo dovranno frequentare dei corsi obbligatori che abbiamo previsto di organizzare nei mesi di ottobre e novembre e questi laboratori servono proprio per consentire loro di colmare le proprie fragilità, in particolar modo nell'area linguistica e comunicativa. Sono corsi obbligatori e fino al superamento di questo obbligo formativo lo studente non potrà sostenere esami ad eccezione delle prove di lingua e della prova di informatica di Ateneo. Passiamo ora alla seconda parte della presentazione nella quale cerchiamo rapidamente di indicare quali sono le caratteristiche essenziali del sociologo. Quindi che cosa fa il sociologo? Innanzitutto il sociologo analizza le società in una prospettiva multidisciplinare, cioè guardando costantemente e essendo costantemente in dialogo con altre discipline che alla sociologia sono necessariamente collegate, la filosofia, l'economia, il diritto alla storia, l'antropologia, la demografia, la scienza della politica e potremmo dirne molte altre. Inoltre il sociologo analizza in modo empirico i fenomeni sociali, utilizza cioè metodologie e tecniche sia di tipo quantitativo che qualitativo che costituiscono la cassetta degli attrezzi specifica del sociologo. Infine il sociologo è uno studioso che si occupa di analizzare i problemi che caratterizzano la nostra società e che prova a progettare azioni che possano contribuire ad affrontare questi problemi in maniera efficace. Date quindi queste competenze quali sono i possibili sbocchi professionali di un sociologo? Va detto innanzitutto che per quanto riguarda il corso di laurea triennale in sociologia di Milano Bicocca abbiamo osservato che la maggior parte, una quota molto consistente di nostri studenti, prosegue negli studi successivi alla triennale. Dopo aver conseguito il titolo di laurea triennale si iscriverà quindi a una laurea magistrale in sociologia o in altre discipline. Tuttavia vi sono anche molti studenti che trovano immediata collocazione nel mercato del lavoro. In questa slide trovate alcuni dei principali ambiti sui quali i nostri sociologi vengono collocati, risorse umane, relazioni pubbliche, organizzazioni non governative, enti culturali, centri di ricerca naturalmente, agenzie che si occupano di sviluppare politiche territoriali di tipo locale. Passiamo ora alla terza parte di questa presentazione. Qui forniamo una descrizione diciamo della struttura didattica del corso che è previsto in sociologia in Bicocca. Possiamo rappresentare gli insegnamenti secondo una struttura che si compone di quattro blocchi principali. Il primo è quello degli insegnamenti sociologici di base che sono gli insegnamenti che forniscono le fondamenta su cui si costruirà la competenza e anche la sensibilità sociologica dello studente. Il secondo blocco degli insegnamenti sociologici di approfondimento è quello nel quale vengono impartiti i corsi che forniscono allo studente le prospettive specifiche di diversi ambiti sociologici. Questi insegnamenti in estrema sintesi, in maniera molto schematica, sono riconducibili a tre aree. Quella culturale e comunicativa, economica e del lavoro e quella politica e territoriale. Vi è poi naturalmente una terza area che vedete indicata qui in verde che è quella nella quale vengono impartiti i corsi relativi alla cosiddetta area metodologica. le metodologie di ricerca, gli esami legati alla statistica, le tecniche di analisi. La quarta area in azzurro è quella degli insegnamenti interdisciplinari, cioè di ciò che non è strettamente sociologia ma che è necessario per un buon sociologo conoscere. Vediamo ora molto rapidamente quali sono i corsi e gli esami che lo studente che si immatricolasse in sociologia dovrà affrontare nel corso dei suoi tre anni di studio. Nel primo anno sono previsti fondamentalmente esami obbligatori. Ci sono i due esami di teorie sociologiche, mutamento sociale, processi culturali e comunicativi che sono gli esami di sociologia di base, diciamo. Poi ci sono due esami di metodologia, uno di tipo quantitativo e uno di tipo qualitativo. L'esame di storia contemporanea è quello di psicologia sociale, quelli quindi che stanno nella cosiddetta area interdisciplinare. Vi è poi una scelta che lo studente deve esercitare optando per uno tra i due corsi che vedete indicati qui in giallo, cioè istituzioni di diritto pubblico o filosofia della politica. Nel primo anno lo studente deve inoltre conseguire l'idoneità linguistica e l'idoneità informatica. Sono due esami che non sono organizzati dal corso di laurea, che sono organizzati a livello di Ateneo, tutte le modalità sono indicate sull'apposito sito. Sottolineo che questi esami vanno necessariamente sostenuti e superati prima di poter procedere con gli esami di profitto del secondo e del terzo anno, cioè fino a quando non si sono ottenute idoneità linguistica e idoneità informatica lo studente non potrà dare gli esami del secondo e del terzo anno. Passiamo al secondo anno e vediamo che gli esami obbligatori sono decisamente più ridotti, sono soltanto tre, sono tecniche quantitative di analisi, elementi di economia e statistica. Questi esami devono essere sostenuti da tutti gli studenti. Nel secondo anno però si aprono già molte opzioni e molte scelte che lo studente deve esercitare. Come vedete in questa diapositiva sono da mettere in piano gli studi, quindi vanno fatti da ogni studente un esame per ciascuno dei blocchi che vedete rappresentati nello stesso colore, quindi una scelta tra metodi tecniche ricerca culturale, rappresentazioni pratiche culturali e così via. Vi faccio osservare che alcuni dei nostri insegnamenti sono impartiti in lingua inglese. Questo è un punto che noi consideriamo molto prezioso, su cui l'Ateneo investe molte risorse e ci sembra servano e siano forse imprescindibili per proiettare i nostri studenti in una logica internazionale in cui è necessario oggi proiettarsi. Il terzo anno, l'ultimo del corso di laurea, lo rappresentato qui e presenta una serie di esami a scelta all'interno di blocchi opzionali, due in quello giallo e poi uno per ciascuno dei blocchi rappresentati con colori differenti che vedete seguire. Per completare il piano di studi gli studenti devono poi scegliere, hanno la possibilità di scegliere altri esami tra tutti gli insegnamenti impartiti in Ateneo, che siano all'interno del nostro corso di laurea, quindi che siano esami che non hanno fatto all'interno di blocchi in cui hanno esercitato l'opzione per un altro corso, oppure anche al di fuori del nostro corso di laurea. Possono essere scelti in qualsiasi corso di laurea dell'Ateneo. Mentre l'altra riga in grigio nella parte bassa della slide indica le attività che si definiscono utili all'inserimento del mondo nel lavoro. Queste attività consistono in laboratori o stage. Gli stage sono stage aziendali che lo studente può fare presso aziende che abbiano stipulato delle convenzioni con il nostro Ateneo e il nostro corso di laurea. I laboratori sono invece attività delle quali vi spiego nella prossima slide. Ecco la slide con i laboratori. Cosa sono i laboratori? Sono attività didattiche che abbiamo scelto di erogare a piccoli gruppi di studenti. In genere non superano la trentina di unità. Questi laboratori sono condotti da esperti che provengono da diversi ambiti professionali. A cosa servono? Servono fondamentalmente a fornire competenze pratiche di alto e specialistico livello che risultano molto utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Non sono dei corsi di carattere teorico ma mirano a trasmettere abilità pratiche attraverso degli approcci didattici attivi. Mi pare che sia tutto. In quest'ultima slide che fu della breve presentazione lascio il mio recapito. Io sono Simone Tosi come ho detto in apertura e lì c'è la mia mail. Lascio anche il nominativo e i recapiti del dottor Petrò che è la persona che per il corso di laurea in sociologia si occupa della segreteria didattica. è una persona estremamente competente che sicuramente sarà lieto di fornire tutte le informazioni che vi possano sembrare necessarie.